Salve a tutti i coccodrilli, saluta a tutti i coccodrilli, saluti a tutti i coccodrilli, siamo qua perché avviare il prosciutto o iniziare il prosciutto in Umbria è una cosa sacra, perché il prosciutto in Umbria è sacro, com'è? Il prosciutto in Umbria è sacro, com'è? Sacro! Com'è? Ma lo ha già fatto! Come bisogna fare? E' da tagliare, la codica da di qui a venire giù, no così, da di qua! Da di qua, di destro, sinistro, antipassino, il plino! Ma come me ha nascuto chi ha a prendere le mani, no? Come ora da? Se vuoi tagliare le mani? Che me voglio tagliare? Come la tagliare da di qui a venire giù? Ma come la tagliare? La codica! E dopo? Dopo si vedrà! E dopo la codica che ci sta? E dopo c'è la canta, cosa da mangiare! E poi? 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 Assurda. Sì In efferimento, non si può fare più? Ma que' di qua? Di qua! Mannaggia il pat... No! Cagliati più fino a la pietra! sarà buono? sei buono? sarà buono? sei buono domandolo da lui sei buono domandolo tu dai Camina taglia fa il salame ti do di qui? nooo mannaggia il carrettino qua no Dio fermate ma perché? mannaggia ma possibile Dio stai a parlare con un bacino? ma come gliela da? vuole va sta conca adesso? dove? dai culo adesso tu c'è in testa di cazzo e corri il culo no come gliela da? ma che gliela da? come gliela da? ma insomma vuole le va a spesso di qui come gliela da? come gliela da? ma sei sempre di giù che taglia di? che taglia di? taglia di da? come gliela da? nel senso cioè a te ti piace quel taglio? ma volgi a far culo un'altra volta? si non è da culo ma tu sei sull'eminenza puoi dire parolacce ahhh non si è monta niente ti do fermete ha fatto un fio deficiente ma deficiente e bel fosa tra poco ma come? bel fosa bel fosa scuola tiro a più su per su più su più su dove? beh mettilo così è scivoloso attene dopo tutto stronzo ma è scivoloso guarda si è fatto la neve Così? Nooo! Più qua! Vieni che scivola! Tirolo su! Dove la tirare? Mi sto anche affaticando! Più là! Adesso ce l'ho messo! Tira giù di qui! Allora non c'è nero! Questa è dannata qui eh! Stai sicuro? Amina infilata lì! Com'è? Questa è dannata lì! Tirolo qua! Ma mi dice che avrò fatto domani! Per scontare sti peccati io! Che avrò fatto domani! Cono' sta nonna! Ma che avrò fatto io? Oh l'hai preso? L'hai preso? No! E pula! Vai! Tirolo più su! L'hai preso o no? Sono schioppo! Rialarga! Rialarga! L'hai preso! Gira! L'hai preso? E l'hai preso! E l'hai preso! E l'hai preso! Ehi! Stronzo! Dai! Stronzo! Dai ci siamo ci siamo! No! Aaaaah! Vado a te mano! S*****! Ma sarà io uno stronzo così? Vai posto! Come ora? Oh! Non mi ne comincia' eh! Mi voglio scalette! Mannaggia la magra del gallo! Guarda che cazzo è mattica! Levate di coglioni! S*****! Dai è meglio! S*****! Che io ne chiedo bene! Oh! Vuoi signorare? S*****! Così? Mannaggia il c*****! Mannaggia il c*****! Mannaggia la magra! L'addio c*****! Cazzo è mattino! Guarda che fa! Sto testa di c*****! Nucleare! Guarda tu ho affinzato un coltello! Non mi può dare questa coltella che stai da me! Tu sei un ignorante! Sei un bambino! S*****! 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 Ma si è buono questo c*****! Non è così! Mannaggia il bambino! non è possibile che fai tutte le cose ragazzi continuate a seguirci su Instagram e su Youtube adesso lo aspettiamo ti è piaciuto questo avvio del prosciutto? ma che mi è piaciuto? salita a ammazzare saluta tutti i coccodrilli saluta tutti i coccodrilli viva il prosciutto e viva la viva il prosciutto e viva la solta no prosciutto io te mi ne dico e poi ti mangio tutto vai ah oh